E' la redizione di X Factor, voleva invitarla per la diretta di stasera. Ah, fantastico! Mi mandate una macchina, vero? Non è vero! Non è vero! No, non è vero! Una volta per piacere! No, non è vero! No, non è vero! No, non è vero! Non è vero! Ve la volta! Sì, è vero! Oh my God! Oh my God! Vieni! Grazie a tutti. Ah, fantastico, perfetto. Mi mandate la macchina, vero? Mi può dire se c'è un autobus o una metro vicino? Come chi sono? Sono Tess Masazza. Tess Masazza. Testa pazza? No, non testa pazza, Tess Masazza. Cazzo. Non risulta. Ricontrolli. Sono Tess Masazza. Non sono Tess Masazza. Sì, Tess Masazza. Vai, come tre. Tess Masazza. Sì, Tess Masazza. Grazie a tutti.